Quando ti siedi in un ristorante dove si paga 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro Ciao ragazzi, siamo i Pantella, se questa è la nostra prima football challenge Cos'è una football challenge? Una football challenge e una sfida su tre sfide dove noi ci sfideremo con una partitella di calcio, palleggi e calci di chiore E che vinta di chiore, regadiamo un dizionario al mio amico Jacopo, grazie Ma abbiamo tre ospiti speciali oggi E chi sono? Chi sono? Allora Leonardo De Carli Matteo Pelusi E direttamente dal Barcellona ha pagato molto profondamente Abbiamo Neymar Wow, grande Neymar Bene, noi siamo pronti per la sfida e... Un saluto Pantelliano a tutti Poi ha la palla Io da questa partita mi aspetto di morire Vinceremo sicuramente perché... Dai cazzo Se perdo contro i Pantella sia l'essere della Santa veramente Tante belle cose Tanta amicizia Soprattutto la pace del mondo Spero ci divertiremo molto ma tanto non ci sarà partita, siamo molto più forti Grazie Da questa partita mi aspetto che vinceremo Allora da questa sfida mi aspetto la merda più totale perché prima ci siamo scaldati e abbiamo fatto veramente schifo Da questa partita ci aspettiamo di vincere Perché siamo i più fighi Penso che Daniel sia un coglione Penso che siano molto forti, cioè Bise è forte, Leonardo non lo so Spero che inizi ad alzandare qualcuno con i studenti da Castor tipo la Suarez De Carli è proprio un bel culo, davvero È tonico E per me è una grande emozione poter giocare con persone come Leonardo De Carli e Matt e Bise Sono bellissimi Ah no, sbagliato squadra Com'era la domanda? Sono degli sfigati, nessuno li caga, mi raccomando, votateli Beh Matt lo conoscete, è un piccolo Messi, io sono Neymar e poi c'è Leonardo De Carli che è Suarez Cioè non c'è storia Io tifo la Juve, penso che la finale di Champions da vincerà il Barcellona Ma la Juventino ci spero tantissimo, quindi pregherò all'infinito da qua fino al 6 giugno Io sono del toro, quindi immaginate il verdetto finale, i gobbi moriranno Beh la Juve è molto forte in questo periodo, però chi lo sa Tifo Milan e penso che la finale di Champions la vincerà il Barcellona, è ovvio dai ma che c***o Allora io tifo il Milan, spero assolutamente che la Champions la vinca il Barcellona Molti sono sportivi italiani e dicono eh devi tifare la Juve, no a me non me ne frega un c***o Io sono interista e penso che, non lo so, il Barcellona tipo no, e basta insomma la Juve va a casa Bim bum bale Giù, bim bum bale Giù Cosa facciamo? Pallo campo? Io direi... Pallo Oddio! Vespa, vedi! Pallo! Vedi! Vedi! Tavo! Zavarco, vedi! Niente! Pallo! fuori gli occhiali gli danno fastidio, basta vincere l'arbitro, vila occhio no troppo basta se ne basta io bene ragazzi siamo al 5 a 2 per loro io l'ho fatto veramente schifo siamo sudati come porci e puzziamo tanto, però i Pantella stanno prendendo perchè fanno schifo al cazzo stai facendo un video? bravo andando vincei vincei si ha sbagliato vai si 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 no che cazzo ho fatto? ma di cosa si fa? è morto nooo vai vai leo il peggio della Juve si 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 allora siamo pronti il primo sono io devo palleggiare non sono capace va bene uno due tre 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 punti per Alessio uno due tre quattro quattro punti per Matteo Pelusi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove sette dici sette dici otto dici piano piano oddio posto niente cosi uno due tre quattro cinque sei potrasto grazie Leo uno due tre quattro cinque sei sette otto bello numero 3 4 25 26 27 28 29 30 ma allora vedi che deve giocare esterna qualcosa grande 25 niente il migliore sono 29 39 allora attenzione dei panni più di 40 ultimo tentativo vai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vai 11 12 si decide tutti i rigori a berlino con alessio della santa e ti ho toccato il primo vai jay si vai jay si vai jay si bravo si bravo si 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 stiamo ancora in No, vado con! Sì! Campania 2! Campania 2! Campania 2! Sì! No, ma io sono andato a giocare! Tornetemene a Torino! Palleggiatemi sulla mia! A me in realtà non mi frio un cazzo, tengo al mio! I Pantellas hanno perso la sfida, quindi essendo una challenge avrebbero dovuto fare comunque una penitenza e quindi abbiamo deciso di prenderli appallonate nel culo Mi faremo molto male! Uno! Sì, l'ho preso solo io! Hanno fatto veramente cagare, ma non avevamo dubbi! Sì, sono delle schiappe colossali! Sono schifo! Raccomandati di merda! Ragazzi, se volete una nuova challenge, 40.000 like! E volevamo anche ricordarvi che quest'anno siamo in concorso ai Fanta Web Star per gli MTV Awards Trovate tutte le info nella descrizione, potete votarci fino a 50 volte al giorno Crediamo in voi! Almeno fateci vincere! Abbiamo perso pure oggi! Lui è fissato con sta cosa! Enormemente poi! Allora! Montateci! C'è un dei Carli in mutande, attenzione! No, veramente è stata una gran partita, hanno giocato male e sono contento di aver vinto Ma che è stato il video? i perdenti devono soffrire! Vieni! Grazie! No ragazzi! Avete perso, vero? Vabbè il culo! I pezzi di piacere! Chi struis! E pure alla portiglietta! La prossima volta ne ospitate il campione! Quello faceva che male! Cosa è successo? Che Leonardo ha detto ad Alessio che ti facciano usare i piedi Alessio, un fatto di telembolo No, no, è vero! Purtroppo è andato a finire così Ale ha svalvolato! Però io ho qui la maglietta bagnata di Decaide, ragazzi una gran conquista per tutti per De Carli, sbavate. Ah, Leo! Che calzetti bagnati di De Carli! Che bello! Il suo odore è buono! Eau de De Carli, le plus parfum de Leonardo De Carli. Vabbè, ho capito. Arrivederci. È proprio amore. Bene, ragazzi, la challenge di oggi finisce qui. Abbiamo fatto davvero più schifo che mai. Mi sapevo. E però ringraziamo Matt e Binz e Leonardo De Carli per aver partecipato e averci umiliato pubblicamente. E anche per averci aperto il culo. Noi vi ringraziamo tantissimo per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e... Sti cazzi! Un saluto pateliano a tutti! E non le mette voi! Buone le scatte! Sì! Ma a che ora è l'aereo? Alle 18. Ah, perfetto! Alle 8 in aeroporto! Come alle 8 in aeroporto? Eh, non si sa mai quello che può succedere! Ci sono premia dell'Abbis oficino... ... perfetto di corzio... ... perfetto di corzio... Ma a che ora è la scatta! Puoi vedere l'aereo? Alle 18. Ah, perfetto di corzio... ...commenigliere il corzio... ..immolje sull'allocco ufficio... Mi sapevo... ... Ukuh... ... ... ... er... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.